Piccolo girovita privo di grasso? Un corpo magro e senza cellulite? Da oggi puoi! Grazie a Slim Flash, la rivoluzionaria cera dimagrante a base di paraffina, che ti permetterà di perdere centimetri in qualsiasi parte del tuo corpo, in soli 40 minuti. Sapevate che la paraffina è una delle migliori sostanze in grado di bruciare grassi presenti sulla terra? Viene usata in migliaia di centri termali con risultati immediati. Ciao, sono Linda Halligan e sono qui per parlarvi di questo nuovo sistema dimagrante, che vi permetterà di perdere centimetri in qualsiasi parte del vostro corpo, in soli 40 minuti, ed una taglia in soli 14 giorni. Vi presento Slim Flash, il potente sistema che combina le proprietà dimagranti della paraffina con l'azione bruciagrassi della terapia del ghiaccio, dandovi risultati fin dalla prima applicazione. I risultati sono immediati, in soli 40 minuti vi accorgerete dei cambiamenti sul vostro corpo. Sono una persona che ha bisogno di vedere i risultati prima di credere a ciò che mi dicono. Così l'ho provato e 40 minuti dopo ho veramente visto la differenza. Oh mio Dio, ho visto i risultati dopo solo 40 minuti! La prima volta che l'ho usato è stato davvero impressionante! Ho ritrovato la speranza che avevo perso di indossare nuovamente un vestito come questo! Slim Flash non solo vi aiuterà a bruciare il grasso in eccesso, in modo rapido e semplice, ma può addirittura aiutarvi a perdere intere taglie. Ho perso una taglia in meno di due settimane! Veramente incredibile! Ora mi vedo in maniera diversa e le mie figlie sono davvero impressionate dal modo in cui il mio corpo sta cambiando! Grazie a Slim Flash! Una mia amica mi ha parlato di Slim Flash. All'inizio ero scettica, non è possibile che una cera faccia perdere peso in così poco tempo, ma indovinate un po'? L'ha fatto! Ho perso due taglie in quattro settimane! È un prodotto straordinario! Paraffina brucia grassi? Gli esperti concordano che la paraffina è uno dei migliori metodi per perdere centimetri in poco tempo. La paraffina applicata a caldo, quando viene a contatto con la pelle, si asciuga formando una barriera che mantiene il calore, bruciando i depositi di grasso sotto la pelle. Ma questo prodotto è molto di più di semplice paraffina brucia grassi, poiché Slim Flash combina quest'ultima con la famosa terapia del ghiaccio. La terapia del ghiaccio non fa altro che abbassare la temperatura corporea in un'area specifica del corpo. Questo, in reazione al freddo, comincia a produrre calore, che a sua volta brucia calorie con conseguente perdita di centimetri. Tutti conoscono la paraffina e la terapia del ghiaccio. Slim Flash, unendoli tutti e due, ha ottenuto un risultato sorprendente. Possiamo vedere i risultati in soli 40 minuti. Secondo molti esperti, il freddo non solo aiuta a perdere centimetri. La terapia del ghiaccio, infatti, è anche famosa per il suo effetto tonificante sul corpo, riducendo la comparsa della cellulite. Per avere un'idea di come funziona la terapia del ghiaccio sul corpo, pensiamo a quando mettiamo un po' d'acqua nel freezer. Diventa dura. Ghiaccio, appunto. La stessa cosa succede con il corpo. La terapia rassoda e tonifica, proprio come quando l'acqua diventa ghiaccio. Per confrontare i risultati tra Slim Flash ed altri metodi altamente qualificati, abbiamo deciso di provarne alcuni su un gruppo di persone. Questi sono i risultati. Terapia del ghiaccio, 1,3 cm. Terapia del caldo, 1,4 cm. Massaggio snellente, 1,8 cm. E con Slim Flash il risultato medio è di 4,2 cm. In soli 40 minuti. Nessun altro metodo ha dato al nostro gruppo l'incredibile risultato di Slim Flash, che combina il caldo della paraffina con la terapia del ghiaccio. Vi piacerebbe perdere centimetri dal vostro corpo? Non in giorni o settimane, ma in soli 40 minuti? Vi piacerebbe perdere una taglia in soli 14 giorni? Bene, ora è possibile con Slim Flash. Un sistema che vi permetterà di perdere centimetri in soli 40 minuti ed un'intera taglia in 14 giorni. È facile e veloce. Semplicemente applicate la paraffina calda sulla vostra area problematica e lasciatela in posa per 20 minuti. Dopodiché applicate già il freddo per altri 20 minuti. Slim Flash è sicuramente uno dei modi più semplici ed efficaci per modellare il corpo, riducendo i centimetri, la cellulite e tonificando la pelle. I risultati sono visibili in soli 40 minuti. Tanchi del grasso in eccesso? Vi piacerebbe perdere centimetri dal vostro corpo in soli 40 minuti? Bene, Slim Flash è un sistema brevettato per aiutarvi a perdere centimetri ad ogni applicazione. In soli 40 minuti vedrete i risultati. E lo si può utilizzare in qualsiasi parte del corpo, dove ce n'è bisogno. Gambe, braccia, fianchi. Le diete non vi consentono di scegliere dove perdere grasso. Questo non accadrà con Slim Flash, perché sarete voi a decidere quanto e dove perdere peso. E la parte migliore è che vedrete i primi risultati in soli 40 minuti. Risultati come questi sono possibili solamente con la chirurgia estetica. Ma ora, grazie al sistema rivoluzionario di Slim Flash, tutto quello che dovete fare è applicare sul vostro corpo la paraffina dimagrante e il gel freddo brucia grassi, ed aspettare che i centimetri di troppo scompaiano. Slim Flash è venduto in 40 paesi e ha ottenuto un successo sensazionale in tutto il mondo. Che cosa aspettate? Questa è la vostra occasione per avere il corpo che avete sempre desiderato. Chiamate subito per ricevere la paraffina dimagrante e il gel freddo brucia grassi, all'incredibile prezzo che vedete in sovrimpressione. Riceverete lo speciale applicatore per la cera e la speciale fascia osmotica gratis. Ma non è tutto. Oggi vi regaliamo anche la fascia di misurazione. Avrete tutto questo al bassissimo prezzo che vedete in sovrimpressione. Che aspettate? Chiamate subito! Siamo qua sotto il sole di Santa Monica, California, alla ricerca di uomini e donne che vogliono perdere centimetri in appena 40 minuti. Spero veramente che funzioni. Sarebbe fantastico perdere questo in 40 minuti. Ho provato di tutto e per ora non ha funzionato niente. Sarebbe veramente fantastico. Ok, Joanne, sei pronta? Il tuo girovita misura 100 centimetri. È terribile! Applichiamo la paraffina calda, permettendo così alla pelle di assorbire tutte le componenti di Slim Flash. Mi sento benissimo. Sento il grasso bruciare. È meraviglioso. Infine, si applica la terapia del ghiaccio. Quando il gel entra in contatto con la pelle, si avvia il processo bruciacalorie, che favorisce la perdita di centimetri in soli 40 minuti. Il tuo girovita misura 96 centimetri, 4 centimetri in 40 minuti. Vedrete la differenza. Non credo che questo prodotto possa funzionare, ma sono disposta a fare un tentativo. Perché no? Christy, sei pronta? Penso di sì. Il tuo girovita è di 96 centimetri. Oh no! Dacci 40 minuti e vedremo i tuoi centimetri scendere. Ok, scaldiamo la paraffina e applichiamola sull'addome. È facile e veloce. Oh, ma è caldo! Effettivamente sento bruciare i grassi. È fantastico! Wow! Ora applichiamo il gel freddo. Inizierà il suo lavoro da subito. È veramente freddo! È come ghiaccio! Che bello! Vediamo che è successo dopo 40 minuti. 89 centimetri. Oh mio Dio! Incredibile, vero? È fantastico! È vero, mi sento più magra. Guarda i miei pantaloni, stanno un po' meglio. Stai benissimo. Riesco a capire la differenza. Wow, è veramente un prodotto fantastico! È fantastico! Non credevo che funzionasse. E mi sento benissimo! Funziona! In soli 40 minuti! Chi non ha 40 minuti liberi per provare qualcosa? Specialmente qualcosa che ti fa sentire meglio. Perché no? Seriamente? Due settimane fa stavo così male con me stessa, mentre adesso mi guardo lo specchio e mi piaccio. Oh mio Dio! Sono veramente carina! Questo prodotto funziona! In soli due settimane ho perso una taglia! Mi sento più tonica, più bella e più ispirata a continuare. Non potevo credere ai risultati dopo appena due settimane. Sono stati così drastici e fantastico. Ho perso una taglia in soli 14 giorni. Non potevo credere che potesse accadere in maniera così veloce. Ma la portentosa combinazione della paraffina calda con la terapia del ghiaccio non solo dà risultati immediati in 40 minuti, ma usandola continuamente può trasformare il vostro corpo in solo una settimana. Tutte le donne lo sanno. Avere un bambino ti porta ad essere fuori forma. Ho cicce sulle braccia, cellulite sulle gambe e il ventre è ingrossato. Ho provato diete e tutto quello che era possibile. Controllato il cibo, le calorie, muoio di fame. Cosa vi devo dire? Non funziona niente. Ci sono molti depositi di grasso di cui non possiamo sbarazzarci. Sono Ricky, ho 57 anni ed oggi è il mio primo giorno con Slim Flash. Le abbiamo dato il nostro Slim Flash da provare per un paio di settimane. Slim Flash ti permette di perdere centimetri ogni volta che lo usi e di perdere una taglia in soli 14 giorni. Questa è la mia nuova forma che ho raggiunto in sole due settimane grazie a Slim Flash. È incredibile. Ho perso un'intera taglia. Mi sento una donna nuova. Ora, quando mi guardo allo specchio, mi soffermo un attimo in più. Mi sento rafforzata, tonificata e non ho più grasso intorno alla vita. Mi sento nuovamente sexy. È la prima volta in 30 anni che mi sento più giovane. Grazie a Slim Flash. Ora sono nuovamente felice. Mi sento molto grafica e molto felice. Vi piacerebbe perdere centimetri dal vostro corpo? Non in giorni o settimane, ma in soli 40 minuti? Vi piacerebbe perdere una taglia in soli 14 giorni? Bene, ora è possibile con Slim Flash. Un sistema che vi permetterà di perdere centimetri in soli 40 minuti ed un'intera taglia in 14 giorni. È facile e veloce. Semplicemente applicate la paraffina calda sulla vostra area problematica e lasciatela in posa per 20 minuti. Dopodiché applicate già il freddo per altri 20 minuti. Slim Flash è sicuramente uno dei modi più semplici ed efficaci per modellare il corpo, riducendo i centimetri, la cellulite e tonificando la pelle. I risultati sono visibili in soli 40 minuti. Tanchi del grasso in eccesso? Vi piacerebbe perdere centimetri dal vostro corpo in soli 40 minuti? Bene, Slim Flash è un sistema brevettato per aiutarvi a perdere centimetri ad ogni applicazione. In soli 40 minuti vedrete i risultati. E lo si può utilizzare in qualsiasi parte del corpo, dove ce n'è bisogno. Gambe, braccia, fianchi. Le diete non vi consentono di scegliere dove perdere grasso. Questo non accadrà con Slim Flash, perché sarete voi a decidere quanto e dove perdere peso. E la parte migliore è che...